Si lavora fino a tarda sera all'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale di Teramo. Si analizzano e si fa diagnosi sui tamponi da Covid-19, cercando così di velocizzare il lavoro disumano che sta svolgendo in questi giorni il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Pescara, il centro di riferimento regionale sul coronavirus. A Teramo i primi tamponi sono arrivati nel pomeriggio di lunedì scorso nella sede di Via Campo Boario. Nel primo giorno sono state effettuate poco meno di 200 analisi, ma si tratta di una fase di rodaggio e di messa a regime. Infatti l'IZS ha la capacità di analizzare 700 tamponi giornalieri. In questo momento si effettuano due turni di lavoro con due squadre distinte, in modo da assicurarne sempre una operativa nel caso di contagio degli operatori. Il percorso dei tamponi da Covid-19 che stanno confluendo all'IZS di Teramo e che provengono da tutto il territorio Teramano e dall'Aquila sarà quello obbligato e stabilito dall'Istituto. I campioni vengono consegnati in accettazione nella massima sicurezza e trasferiti nel laboratorio trasportabile di biocontenimento utilizzato per il trattamento di virus estremamente contagiosi. È stato il Ministero della Salute ad autorizzare l'Istituto Teramano ad effettuare l'analisi sui tamponi, un riconoscimento importante ad una struttura di alto valore scientifico e all'avanguardia sulla ricerca. L'IZS Caporale, infatti, è centro di referenza nazionale per l'OIE per malattie contagiose come il virus della zanzara tigre, la blue tongue e la pleuropolmonite da bovino.